Buongiorno a tutti, buona domenica e grazie alla Presidente e alla Direttrice Artistica dell'Ente Concerti di Oristano per questo invito. A me fa piacere moltissimo essere di nuovo con voi, sono stata già due volte ospite dell'Ente Concerti di Oristano e questa volta suonerò qui, dalla mia casa, dalla mia città, Udine, nel nord-est dell'Italia. Sarò un po' con voi e ho pensato che, visto che il tempo in quarantena è stato piuttosto lungo, mi piacerebbe darvi una prospettiva di vari momenti in cui ho registrato dei video musicali sempre qui a casa, che testimoniano il tempo che passa in quarantena, anzi, testimoniano anche il tempo che passa senza parrucchieri come per tutti. E quindi iniziamo subito con un brano di Johann Sebastian Bach che meglio di tutti interpreta questo momento di emergenza con una delicatissima sarabanda tratta dalle suite per violoncello solo, una delicatissima appunto sarabanda che vuole trasmettere serenità e anche un senso di completezza e di trascendenza. E dopo questa dolcissima sarabanda, ora un momento di gioia con una bourée, sempre di Johann Sebastian Bach, tratta sempre dalle suite per violoncello solo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ed ora un brano di un compositore anglo-italiano, Philip Selby. Mancato alcuni anni fa, ha lasciato questa bellissima composizione per flauto solo dal titolo Spirit of the Earth. E quindi questo spirito della Terra sembra interpretare in pieno questo momento di emergenza è un brano di un brano di un brano di grande lirismo e di grande introspezione, delicato ma allo stesso tempo molto persuasivo e coinvolgente. Grazie a tutti. 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 Ed ora un'aria molto conosciuta, molto spensierata e allegra, Wolfgang Amadeus Mozart, l'aria di Papageno dal flauto magico. Grazie a tutti. 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 E allora buona domenica e allora buona domenica e speriamo a presto, arrivederci a Oristano.